bene come il sale c'era una volta un re che aveva tre figlie una bruna una castana e una bionda la prima era bruttina la seconda così e così e la più piccina era la più buona e bella le due maggiori erano invidiose di lei guerre aveva tre troni uno bianco uno rosso e uno nero quando era contento andava sul bianco quando era così e così sul rosso e quando era in collera sul nero un giorno andò a sedersi sul trono nero perché era arrabbiato con le due figlie più grandi e se presero a girargli intorno e a fargli moine gli disse la più grande signor padre ha riposato bene è arrabbiato con me che la vedo sul trono nero sì con te ma perché signor padre perché non mi volete mica bene io io signor padre sì che le voglio bene bene come come il pane il re sbuffò un po ma non disse più nulla perché era tutto compiaciuto di quella risposta venne la seconda signor padre ha riposato bene perché sul trono nero non è mica in collera con me sì con te ma perché con me signor padre perché non mi volete mica bene ma se io le voglio così bene bene come come il vino il re borbotò qualcosa tra i denti ma si vedeva che era soddisfatto venne la più piccola tutta ridente oh signor padre ha riposato bene sul trono nero perché se la forse è con me sì con te perché neanche tu mi vuoi bene ma sì io sì che ne voglio bene bene come come il sale a sentire quella risposta il re andò su tutte le furie come il sale come il sale oh sciagurata via dai miei occhi che non ti voglio più vedere e diede ordine che la accompagnassero in un bosco e l'ammazzassero sua madre la regina che le voleva davvero bene quando seppe di quest'ordine del re si scervellò per trovare il modo di salvarla nella reggia c'era un candeliere d'argento così grande che zisola così si chiamava la figlia più piccina ci poteva star dentro e la regina ce l'ha nascose va a vendere questo candeliere disse il suo servitore più fidato e quando ti domandano cosa costa se è povera gente di molto e se è un gran signore ricco di poco e daglielo abbracciò la figlia le fece mille raccomandazioni e mise dentro al candeliere fichi secchi cioccolata ai biscottini il servitore portò il candeliere in piazza e a quelli che gli domandavano quanto costava se non gli andavano a genio domandava uno sproposito finalmente passò il figlio del re di torralta disaminò il candeliere da tutte le parti e poi domandò quanto costava il servitore gli disse una sciocchezza e il principe fece portare il candeliere al palazzo lo fece mettere in sala da pranzo e tutti quelli che vennero a pranzo fecero gran meraviglie alla sera il principe andava fuori a conversazione e siccome non voleva che nessuno stesse ad aspettarlo a casa i servitori gli lasciavano la cena preparata e andavano a letto quando ziso la sentì che in sala non c'era più nessuno salto fuori del candeliere mangiò tutta la cena e tornò dentro arriva il principe e non trova niente da mangiare suona tutti i campanelli e comincia a strapazzare i servitori loro a giurare che avevano lasciato la cena pronta che doveva essersela mangiata il cane o il gatto se succede un'altra volta vi licenzio tutti e se il principe si fece portare un'altra cena mangiò e andò a dormire la sera dopo benché fosse tutto chiuso a chiave capitò lo stesso e il principe pareva facesse venire giù la casa dagli strilli ma poi disse vediamo un po' domani sera quando fu domani sera cosa fece si nascose sotto la tavola che era coperta fino a terra da un tappeto vengono i servitori mettono i piatti con tutte le pietanze mandano fuori il cane e il gatto e chiudono la porta a chiave sono appena usciti che si apre il candeliere e nasce fuori la bella zisola va a tavola e giù a quattro palmenti salta fuori il principe la prende per un braccio lei cerca di scappare ma lui la trattiene allora la zisola gli si butta in ginocchio davanti e gli racconta da cima a fondo la sua storia il principe ne era già innamorato cotto la calmò e disse bene già da adesso vi dico che sarete la mia sposa ora tornate dentro il candeliere a letto il principe non poteva chiudere occhio tutta la notte tanto era innamorato e al mattino ordinò che portassero il candeliere nella sua camera perché era tanto bello che lo voleva vicino la notte e poi diede ordine che gli portassero da mangiare in camera porzioni doppie perché aveva fame così gli portarono il caffè poi la colazione alla forchetta e il pranzo tutto doppio appena gli avevano portato i fassoi chiudeva l'uscio a chiave faceva uscire la sua zisola e mangiavano insieme con grande gioia la regina che restava sola a tavola si mise a sospirare ma cosa avrà mio figlio contro di me che non scende più a mangiare cosa gli avrò fatto e lui continuava a dire che avesse pazienza che voleva stare per conto suo finché un bel giorno disse voglio prendere moglie e chi è la sposa fece la regina tutta contenta voglio sposare il candeliere che mio figlio è diventato matto fece la regina coprendosi gli occhi con le mani ma lui diceva sul serio la madre cercava di fargli intendere ragione di fargli pensare a cosa avrebbe detto la gente ma lui duro e ad ordine di preparare il matrimonio di lì a otto giorni il giorno stabilito partì dal palazzo un gran corteo di carrozze e nella prima ci stava il principe con a fianco il candeliere arrivarono alla chiesa il principe fece trasportare il candeliere fin davanti all'altare quando fu il momento giusto aperse il candeliere e salto fuori zisola vestita di broccato con tanti pietre preziosi al collo e agli orecchi che risplendevano da tutte le parti celebrate le nozze tornati al palazzo raccontarono alla regina tutta la storia la regina che era una furbona disse lasciate fare a me che a questo padre gli voglio io dare una lezione e infatti fecero il banchetto di nozze e mandarono l'invito a tutti i re dei dintorni anche al padre di zisola e al padre di zisola la regina fece preparare un pranzo apposta con tutti i piatti senza sale la regina disse agli invitati che la sposa non stava bene e non poteva venire a pranzo si misero a mangiare ma quel re aveva la minestra scipita e cominciò a brontolare tra sé questo cuoco questo cuoco si è dimenticato di salare la minestra e fu obbligato a lasciarla sul piatto venne la pietanza senza sale anche quella il re posò la forchetta perché non mangia maestà non le piace ma no è buonissima è buonissima e perché non mangia ma non mi sento tanto bene provò a portarsi alla bocca una forchettata di carne ma ruminava ruminava senza poterla mandar giù e allora gli venne in mente la risposta della sua figliuola che gli voleva bene come il sale e gli prese un rimorso un dolore che a poco a poco ruppe in lacrime dicendo oh ben sciagurato cosa ho fatto la regina gli domandò cosa aveva e lui cominciò a raccontare tutta la storia di zisola allora la regina si alzò e mandò a chiamare la sposina il padre ad abbracciarla e a piangere e a domandarle come mai era là e gli pareva di risuscitare ma andarono a chiamare anche la madre rinnovarono le nozze con una festa ogni giorno che credo siano ancora là che ballano grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti